Sono diversi gli eventi che l'Università di Teramo sta mettendo in campo per la campagna di immatricolazione 2021-2022. Tra questi l'evento Tutti Insieme Torneremo a Rivedere le Stelle, organizzato nella terrazza del campus universitario, dove sono stati messi a disposizione tre telescopi dell'osservatorio astronomico d'Abruzzo per osservare la volta celeste. Una frase che fa riferimento a Dante in occasione dei 700 anni dalla morte, ma ha anche il termine insieme che sta a significare la speranza, la volontà di voler tornare in presenza. Tant'è vero che dal 4 ottobre le lezioni e gli esami e le tesi ricominceranno in presenza. La campagna di immatricolazione riguarda i 25 corsi di laurea dell'Ateneo, due di questi sono nuovi e hanno il termine sostenibilità all'interno del proprio nome. Turismo sostenibile e intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità. Tutta l'offerta formativa dell'Università di Teramo, come è noto, è all'interno dei cinque contenitori, delle cinque facoltà, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione, bioscienze, tecnologie agroalimentari e ambientali e veterinaria. L'Università di Teramo è un Ateneo fortemente radicato nel territorio e quindi anche i percorsi formativi dei nostri ragazzi hanno un collegamento diretto con il territorio, che però hanno una vocazione internazionale. Tanto è vero che alcuni dei nostri corsi di laurea sono in inglese e quindi guardano direttamente all'internazionalizzazione, dando ottime possibilità di sbocco e di lavoro per i nostri ragazzi. Quindi ricominceremo in presenza, torneremo ad essere la comunità viva e vitale che siamo sempre stati.